Un'evoluzione nel segno dell'innovazione, portando l'azienda al passo coi tempi per vincere anche la sfida della transizione ecologica, con l'obiettivo di fare cultura per ridurre il divario digitale. È l'ambizione di Savino Solution, l'azienda con sede a Salerno specializzata nel sostegno alle imprese e nei processi di digitalizzazione, aiutandole a liberarsi dalla carta, e passata da SRL a Benefit S.P.A. È un sogno che si è avverato nel giro di pochi anni, dove soprattutto c'è stato un percorso di competenza, una competenza di dominio che ci ha permesso di essere primi in Campania, in un settore particolare, come quello della digitalizzazione dei processi aziendali, e abbiamo fatto un percorso che oggi si conclude con una S.P.A., Società Benefit, per iniziare un altro traguardo, altri obiettivi. L'annuncio nel Salone di rappresentanza di Confindustria Salerno, alla presenza del Presidente dei Giovani Imprenditori, Marco Gambardella. Verso la transizione digitale, guardando però al sociale, a questo territorio che punta sempre all'eccellenza, che guarda in Europa, ma a tutto il mondo. Quindi complimenti a questi capitani di impresa coraggiosi, folli e dico sempre un po' più avventurosi, ma con tante competenze che i giovani stanno mettendo in campo. Il messaggio è che anche al Sud si può fare impresa ed innovazione e lo dimostrano tanti i nostri giovani, specialmente in un settore come quello della transizione digitale, che oggi riveste sempre più importanza.